All'oggetto numero 5 interroga il Consigliere Mancini, vaccinazione da Covid-19 in gravidanza e allattamento, risponde l'Assessore Coletto. Prego Consigliere Mancini. Grazie Presidente. Allora parliamo di un tema che anche in questi giorni è all'attenzione, visto dati inconfutabili circa il numero di contagi, dei decessi, che sono peggiori, molto peggiori rispetto a due anni fa. Quindi il tema vaccinazione si pone in un contesto chiaramente di conoscenze e di valutazioni che rispetto anche alla data in cui è stata scritta questa interrogazione hanno prodotto assessore valutazioni anche da parte del Ministero della Salute ma anche ovviamente penso dal suo assessorato in merito ad alcune procedure efficace di farmaci, cure domiciliari, monoclonali, tutto un sistema di terapia e che questi due anni ci hanno imposto approcci diversi e penso che ormai ci sia una bibliografia medica non secondaria dove ognuno penso in scienza quella vera si possa fare valutazioni. Quindi la faccio molto breve assessore e il dispositivo è piuttosto lungo quindi arrivo semplicemente all'interrogazione per poi avere più tempo eventualmente per la replica. Si interroga la Giunta regionale sulle soluzioni organizzative adottate all'interno delle parti di osteticia e di ospedali umbi per garantire alle donne in gravidanza un parto in sicurezza sia nel caso di positività al Covid sia in caso di negatività. Sui dati a disposizione del nucleo epidemiologico regionale in merito alla somministrazione dei vaccini Covid-19 le donne Umbre in stato di gravidanza durante diverse epoche di gestazione durante l'allattamento sull'attività di monitoraggio svolte dalla Regione Umbre eventuali riscontri al filo di valutare l'efficacia e la sicurezza delle vaccinazioni da Covid-19 per le donne in gravidanza e in allattamento. Tra l'altro sto leggendo il bugiardino di Pfizer, se è in corso una gravidanza o se sospetto una gravidanza informi il medico, l'infermiere così via, comirnati o come si dice, può essere usato durante la gravidanza un ampio numero di dati relativi a donne in gravidanza vaccinati con comirnati durante il secondo e il terzo trimestre di gestazione non ha mostrato effetti negativi né sulla gravidanza né sul neonato. punto, anche se i dati relativi agli effetti sulla gravidanza o sul neonato dopo le vaccinazioni durante il primo trimestre di gestazione sono limitati e non è stato osservato nessun cambiamento nel rischio di aborto spontaneo. quindi poi continua come il nati può essere usato durante l'allattamento. Quindi sulla base di queste richieste, dati limitati, vorrei capire il punto di vista suo, le procedure, soprattutto il monitoraggio dei dati e l'efficacia di questi vaccini sulle donne in gravidanza e in stato di allattamento. Grazie. Grazie consigliere, prego Assessore Coletto. Grazie, grazie Presidente. Dico subito che la risposta è una risposta piuttosto articolata e altrettanto lunga per cui se fosse così gentile ad avvisarmi quando scade il tempo poi lascio agli atti. Dunque le aziende sanitarie e gli ospedali con punti nascitativi durante la pandemia hanno attivato soluzioni organizzative per garantire il parto in sicurezza in linea con indicazioni nazionali e regionali. Per quanto riguarda l'azienda ospedaliere di Perugia, la positività della donna in gravidanza viene intercettata con almeno 48 ore di anticipo nel caso di un parto programmato, mediante l'esecuzione di un tampone molecolare. Nel caso di un parto urgente e non programmato, ugualmente la positività viene accertata immediatamente all'ingresso del paziente tramite tampone antigienico che viene successivamente confermato con tampone molecolare. A questo punto la paziente viene avviata al percorso separato. Il parto di una donna gravida positiva viene espletato in una sala dedicata e distaccata dal proprio parto. tale sala predisposta anche per l'esecuzione di parto contaglio cesario avendo tutte le caratteristiche di una sala operatoria. Al termine del parto la sala viene interamente sanificata e disinfettata tramite utilizzi disinfettanti certificati e quindi predisposta per l'eventuale ulteriore parto successivo. La zona travaglio è sufficientemente ampia da consentire anche il travaglio di una donna positiva in modo separato dalle altre. L'adegenza della donna gravida e della corpora positiva viene assolutamente tramite quattro posti letto presenti nell'area Covid all'interno dell'area materno-infantile. Tale area è stata adeguatamente compartimentata allo scopo di tenere separati i percorsi. Il personale è dotato di dispositivi di protezione individuali prescritti dalla normativa vigente della disinfezione dei locali avviene giornalmente secondo protopolli approvati per le aree ad alto rischio infettivo ed inoltre tramite ulteriore disinfezione al momento della dimissione della paziente positiva. In termini di tale operazione i locali vengono messi a disposizione per l'eventuale ulteriore ricovero. I neonatologi effettuano un screening SARS-CoV-2 sul neonato immediatamente alla nascita. Sono rarissimi i casi di trasmissione materno-fetale del virus del Covid ma nell'evenienza il neonato viene preso in carico dalla terapia intensiva neonatale che dispone di culle termostatiche separate per i piccoli pazienti infetti. Avendo effettuato una sopra descritta separazione di percorsi di parto di una donna gravida non positiva al Covid si svolge normalmente nel blocco parto sito alla piastra dei servizi al blocco N al secondo piano. La decenza della donna gravida non positiva si svolge quindi regolarmente presso i locali a tale scopo accreditati al blocco G nel secondo piano. In azienda ospedaliera Terni per quanto di competenza dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni con deliberazione del commissario straordinario 274 del marzo 2020 raccolta disposizione aziendali in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 successive deliberazione 312 dell'aprile 2020 procedura di gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 la revisione prima è stato istituito il piano emergenziale aziendale per la pandemia Covid-19 che raccoglie le molteplici misure di natura strutturale, gestionale, organizzativa e professionale messa in atto dalla direzione aziendale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 definendo il percorso parto Covid che consente alla donna Covid positiva di affrontare il percorso per sé e per gli altri partorienti e regolamentato anche il percorso di accesso di pazienti Covid-19 sospetti o confermati dal PS al blocco sala parto del terzo piano per i nascitori. Con nota 35.58 del maggio 2020 e successive modificazioni e integrazioni è stato prodotto un ulteriore aggiornamento per i percorsi nascita e dei regolamenti di ingresso presso il Dipartimento Materno-Infantile. L'Uso Umbria 1 sono attivi due punti nascita, Città di Castenno e Bubio-Guando. Nel periodo pandemico 2020-2022 caratterizzato da una capitale di fusione del virus in tutto il territorio nazionale è stata realizzata la riorganizzazione di percorsi assistenziali nei reparti di ostetricia e ginecologia dell'azienda Uso Umbria 1 supportata da un'attenta analisi e valutazione dei rischi di diffusione del virus SARS-CoV-2. Sono state adottate procedure specifiche nel punto nascita di Bubio-Guando-Tadino e a Città di Castenno. L'Uso Umbria 2. Nella prima fase dell'epidemia da Covid tutte le partorienti positive all'ingresso sono state accentrate per disposizione regionale presso l'ospedale di Perugia. Di pochi parti avvenuti in quel periodo presso le nostre strutture erano da considerarsi emergenziali da non consentire il trasporto a Perugia. I parti in isolamento e l'isolamento delle partorienti sono stati comunque eseguiti seguendo le disposizioni interne che sono state contenute nel documento di valutazione del rischio biologico e che dal gennaio 2022 sono diventate operative anche per le pazienti in urgenti, a seguito di nota regionale che disponeva l'aspettamento del parto di paziente Covid positiva presso tutte le strutture con punto nascita. Presso l'ospedale di Orvieto l'ostetricia e ginecologia utilizza per l'isolamento delle pazienti positive una stanza a due posti letto corrispondenti all'ultima stanza di degenza del reparto di ostetricia, mentre i parti sono aspettati presso la sala operatoria di piccoli interventi che hanno accesso dedicato esterno al blocco operatorio e non è situata nel blocco parto delle strutture ospedaliere. Presso l'ospedale di Poligno attiva una sezione Covid di ostetricia in un'area dedicata a costanze singole. Il percorso di accesso alla zona e alla sala parto dedicata è isolato. Se la sala parto dedicata risultasse occupata si può soffrire della sala operatoria Covid del blocco operatorio. Tutti i locali che ospitano pazienti Covid positivi sono contrassegnati da apposita cartellonistica. Le aree che ospitano pazienti Covid sono state sosposte a modifiche dei sistemi di climatizzazione a fine di ridurre al minimo la contaminazione ambientale. Sono state elaborate e diffuse al personale le misure di prevenzione e protezione che fanno parte del documento di valutazione del rischio e il personale è stato istruito all'uso dei DP e le procedure di vestizione e svestizione. Il documento di valutazione del rischio e le risorse per il corretto utilizzo dei DP che ne costituiscono parte integrante sono disponibili presso l'azienda. Sui dati di disposizione del nucleo epidemiologico regionale in merito alla somministrazione di vaccini a Covid-19 le donne ombre in stato di gravidanza si precisa che relativamente alle informazioni richieste nel sistema SIADR il dato di gravidanza non è esplicitamente legato alla vaccinazione ma si desume dalla scheda di anamnesi con la seguente domanda. È incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese successivo alle somministrazioni? Il dato estratto per l'anamnesi con risposte a questo al quesito sopra riportato per la vaccinazione Covid. Donne vaccinate numero 306, vaccinazioni eseguite numero 464. Le attività vaccinali anti-Covid per le donne in gravidanza e in allattamento sono state proposte in relazione alle indicazioni nazionali si elenca in seguenti documentazioni. Circolare del 24 settembre, raccomandazioni sulla vaccinazione anti-Covid in gravidanza e allattamento. Indicazioni ad interim su vaccinazione contro Covid-19 in gravidanza e allattamento. Indicazioni ad interim su vaccinazione contro Covid-19 in gravidanza allattamento e allattamento del 22 settembre 2021 a cura di Indicazioni Amstetic Surveillance System Istituto Superiore di Sanità. Si riportano di seguito le segnalazioni e le azioni avverse ai vaccini anti-Covid-19, dati provenienti dalla rete nazionale di farmacovicinanzi. Un focus specifico sulla sicurezza di vaccini anti-Covid in gravidanza e allattamento è stato pubblicato dal Sistema Nazionale di Farmacovigilanza coordinato da AIFA nel suo rapporto annuale alla sicurezza di vaccini anti-Covid 27-12-2020-26-12-2021. In questo report sono riassunti i dati italiani inerenti alle segnalazioni e le reazioni avverse da vaccini anti-Covid, incluso quelli in corso di gravidanza, sintetizzati in uno specifico capitolo. Dal 26 dicembre 2020 al 26 dicembre 2021 sono state raccolte complessivamente 100 schede di segnalazioni di sospetta reazione avversa che riguardano gestanti. Questo dato corrisponde allo 0,08% di tutte le segnalazioni presenti nella rete nazionale di farmacovigilanza per vaccini anti-Covid-19. Il dato di esposizione fornito dal Ministero della Salute che si basa sulle dichiarazioni delle donne vaccinate e può essere pertanto gravato da errori, evidenzia una somministrazione di 76.686 dosi di vaccino indipendentemente da tipologie di dose, in un totale di 62.092 donne al di sotto di 50 anni. Sulla base di tale dato il tasso di segnalazione su 100.000 dosi di vaccino somministrate a donne in gravidanza indipendentemente dalla tipologia del vaccino e dal numero delle donne somministrate risulta essere pari a 130. Tuttavia, considerato che l'esposizione sembra essere inferiore alle 100.000 dosi, tale dato va considerato con cautela. Per maggiori dettagli, i dati inerenti alla segnalazione di reazioni avverse ingestanti ricavate dalla rete nazionale di farmacovigilanza fare riferimento a un sito specifico. Le conclusioni di AIFA sono che le evidenze scientifiche disponibili, i dati di segnalazione raccolti in Italia ad oggi mostrano un buon profilo di sicurezza dei vaccini per il trattamento Covid-19 delle donne in gravidanza, supportato e incentivando la vaccinazione in tale categoria di popolazione. Attualmente la vaccinazione anti-Covid-19 è indicata sia in gravidanza che in allattamento, in accordo alle posizioni in merito delle società scientifiche e alle autorità regolatorie, sia nazionali che internazionali. Lascio agli altri la risposta. Grazie Assessore. Grazie. Prego Consigliere Mancini per la replica. Io Assessore la ringrazio, ho assistito a un bellissimo trattato di medicina territoriale, ospedaliera e quindi è stato formativo il suo intervento Assessore e quindi anche l'impegno che ha messo per spiegarcelo. Poteva ovviamente per risparmiare tempo anche al dibattito, poteva anche trasmettere. Ma resta il dato significativo Assessore. Innanzitutto che metà delle donne circoletto, non so se corrisponde al vero, le donne che si sono recate nei nostri presidi ospedali per partorire non erano malati da SARS-CoV-19, erano solo i virus e grazie a Dio erano asintomatiche, questo ci deve rassicurare e molte non vaccinate. Quindi la natura molte volte fa tante cose meravigliose più di quello che possa fare l'uomo. Poi in modo sintetico alla fine abbiamo capito che alla fine dovrebbero parlare i numeri, non solo in questa regione ma in tutta Italia. Per quello che riguarda quelle che sono le indicazioni e le precauzioni tra rischio e beneficio e soprattutto il follow up del paziente, del bambino, che mi risulta non in questa regione Assessore, in tutta Italia, non essere puntualmente svolto. Quindi c'è un tema che bisogna poi porre nella fase di prevenzione e di educazione. I vaccini vanno tutti bene, ricordiamo però a chi li fa, una volta per tutte, che sono ancora in fase sperimentale, cioè soggetti a cui viene messo un farmaco in fase di sperimentazione, la più grande dell'umanità, in fase 3-4 e se ben ricordo Assessore mi può correggere anche in diretta, su due dosi e non su 3 e non su 4. Quindi dobbiamo stare un po' attenti, quindi di valutare sempre quello che in medicina si chiama principio di precauzione ed è quello che invito in generale a chi svolge un'attività medica e chi fa sanità pubblica a valutare il principio di precauzione. Ora ovviamente non sono un medico, però quello che viene pubblicato oggi nei giornali e che sta girando un po' nei social e anche nei quotidiani è che in Danimarca i medici hanno valutato che vaccinare i bambini forse non è stato particolarmente intelligente, quindi ne vedremo delle belle e questi alert che stanno arrivando in Europa ci devono far fare ulteriori e profonde riflessioni. Quindi questo è quello che le faccio io con invito al di là della risposta della puntuale che lei mi ha puntualmente letto e fatto comprendere. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 6, istituto Prosperius Tiberino, state attuazioni della legge regionale 10 del 26 2021. Interroga il vicepresidente Bettarelli, risponde l'assessore Coletto. Prego consigliere Bettarelli. Grazie. Torniamo a parlare dell'istituto Prosperius, in particolare l'interrogazione odierna ha appunto per oggetto quello di cercare di capire qual è lo stato di avanzamento, in particolare per sintetizzare per larghi tratti quello che è successo. In questa aula oltre un anno fa abbiamo approvato la legge regionale numero 10 del 23 giugno 2021 che prevedeva in un articolato, leggo velocemente, la regione con la presente legge al fine di garantire la continuità del servizio sanitario e di consentire il mantenimento e lo sviluppo di un servizio specialistico di eccellenza nel campo della riabilitazione autorizza l'azienda Aslumbre una ad adeguare la propria quota di partecipazione nazionale nella società istituto Prosperius Tiberino SPA nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 bis della legge 5292, sino all'individuazione di nuove forme di gestione in conformità alle normative vigenti e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I 12 mesi sono decorsi il 25 giugno 2022 e a seguito quindi di una serie di commissioni di atti c'è stata la dico io mancata volontà di aggiornarci rispetto a quello che è stato l'iter appunto di adeguamento della normativa regionale rispetto allo stato attuale. In particolar modo ci sono state una serie di commissioni, una serie anche di comunicazioni in commissioni, l'ultima commissione in cui abbiamo avuto modo di parlare di questo tema importante era il 24 marzo, tra l'altro ricordo di aver fatto anche dichiarazioni compiaciute rispetto a quello che c'era stato detto dai responsabili del servizio sanitario regionale che annunciavano delle scadenze molto prossime, in particolar modo avevano annunciato per la metà di aprile il termine per la firma della convenzione per l'utilizzo dei beni in concessione e dentro la fine del mese sempre di aprile la data per la sottoscrizione del preliminare, queste sono estratti dai verbali della commissione stessa, quindi c'erano tutte le prerogative per chiudere questo iter procedurale entro i 12 mesi. Invece è da dopo Pasqua, quindi da fine aprile, primi di maggio, che chiedo, sollecito la convocazione della commissione per sapere lo stato di avanzamento e questa ad oggi non è stata ancora possibile, quindi mi sono trovato costretto a chiedere in consiglio all'assessore quali sono le motivazioni per cui intanto non abbiamo aggiornamenti e stante il fatto che non ci sono aggiornamenti, quali sono le operazioni, le attività, le azioni politiche, procedurali, amministrative che sono state messe in atto. Ho preso visione studiando gli atti dell'ASL di due delibere che sono la 686 del direttore generale dell'Uslombria 1 del 22 giugno e quella la 738 del 29 giugno in cui in una prima delibera si vanno a rimodulare i volumi finanziari delle prestazioni di riabilitazione e molto interessante è la delibera 738 del 29 giugno in cui si affronta un argomento credo centrale per la risoluzione della questione in oggetto che è l'autorizzazione al pieno utilizzo dei diritti reali sugli immobili di proprietà dell'azienda sanitaria, poi ovviamente meglio individuati sia nella stima fatta dall'agenzia dell'entrata del 2019 ma che insomma sono diritti reali sugli immobili di credo estrema importanza. Quindi per farla breve chiedo quindi se quanto annunciato è stato dato corso a quanto annunciato se effettivamente questa convenzione è stata sottoscritta e qual è lo stato di avanzamento rispetto ad una legge regionale che oltre un anno fa abbiamo approvato all'unanimità in questo Consiglio. Grazie Consigliere, prego Assessore Coletto. Grazie, grazie Presidente. La dinamica temporanea prevista per la conclusione dell'operazione ha scontato la necessità di un breve margine temporaneo integrativo dovuto a due concomitanti fattori oggettivi che non inficciano il processo attivato rappresentati da un lato dalle trattative in essere tra i soggetti privati interessati alla vendita che esula dal contesto pubblico e l'acquisto delle quote di minoranza. Dall'altro dall'imprescindibile necessità giuridico contabile di far coincidere con l'allineamento temporaneo dell'approvazione del bilancio di esercizio 2021 con la sottoscrizione degli accordi applicativi del nuovo Statuto Sociale. Il prossimo step operativo è previsto quindi per il 26 luglio prossimo avventuro, data nella quale è stata convocata l'Assemblea dei Soci, in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio di esercizio sovrarichiamato, a cui faranno contestualmente seguito la formale dell'approvazione degli accordi tra le parti del nuovo Statuto con l'approdo nel rispetto della legge ad una nuova società a prevalente capitale pubblico con maggioranza degli organismi di governance, sia di natura gestionale e consiglio di amministrazione che di controllo collegio sindacale. Ad ulteriore conferma il definitivo stato di conclusione del processo si significa che con atto deliberativo 6.86 il 22 giugno 2022 è stato definito il budget di attività per il secondo semestre dell'anno in corso e che con atto deliberativo 7.38 il 29 giugno 2022 è stata attivata la procettura per la messa a disposizione in concessione di beni immobili dell'azienda sanitaria aventi valore di quota di partecipazione nazionale da parte dell'azienda. Per concludere, si sta rimettendo a posto sotto tutti quanti i punti di vista quelle che erano le inesattezze che si sono presentate al nostro insediamento, a partire dal capitale privato che governava e gestiva il pubblico, quindi contrario alla norma, all'attivazione di una norma, all'approvazione in questo consiglio della norma che andava a rialineare tutte quante queste necessità, alla vera ripartenza dell'istituto Prosperius che avverrà a breve con la sistemazione sia delle quote del pubblico ma anche e soprattutto con l'accessione da parte dei privati di quelle che sono le quote di minoranza verso altra proprietà. Tengo a stolineare che l'attività di Prosperius nel frattempo non si è mai fermata. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Bettarelli per la replica. Una replica molto veloce nella forma rispetto alle considerazioni che ha fatto l'assessore a maggior ragione non capisco le motivazioni per cui non c'è data la possibilità di convocare la terza commissione visto che l'assessore ha annunciato anche una tempistica di elementi di tutta rilevanza e di importanti quindi nella consapevolezza di dare date ed elementi certi credo che questi elementi avremmo potuto averli anche in commissione insomma senza andare ad interferire su chissà quali trattativi o su chissà quali iter procedurali. Quindi come dire le scadenze, la tempistica, le modalità di passaggio di quote sembrano essere ormai arrivate a compimento. Credo che sia importante ad arrivarci ed arrivarci bene. Ripeto il fatto che questo passaggio fosse importante l'abbiamo riconosciuto tutti, tanto è che lo dicevo a giugno dello scorso anno abbiamo votato all'unanimità. Personalmente non mi appassiona la questione un privato piuttosto che un altro proprio perché non ci deve interessare, noi deve interessare invece appunto il raggiungimento dell'obiettivo della legge quindi con il passaggio di quote dal maggioritario dal privato al pubblico e poi il privato se vorrà cedere, il privato attuale se vorrà cedere le quote sono questioni sue, a chi le cederà sono questioni sue. Al di là ripeto dell'obiettivo ma su questo condivido le parole dell'assessore e l'avevo già detto in discussione un anno fa della legge, quello che ci deve interessare invece è mettere l'istituto nelle condizioni di operare al meglio quindi garanzia e potenziamento del servizio, qualità e occupazione. Questi credo che siano i requisiti che devono guidarci. Quindi prendo atto con soddisfazione seppur insistendo ripetutamente sul tema che sembra finalmente siamo nelle condizioni di giungere a compimento di questo iter procedurale e normativo che ripeto però e concludo non è solo un passaggio formale ma ha dietro di sé insomma una programmazione che poi vedrà il soggetto pubblico quindi l'ASL e quindi la regione gioco forza a svolgere un ruolo ancora più importante e più decisivo. Grazie a tutti.